ciao sono luca manelli e in questo video voglio parlarti del bmx pro il bmx pro è un'app che puoi acquistare e installare sul tuo tablet che ti permette di avere un'estensione del tuo archicad in mobilità il bmx è un ottimo strumento per poter presentare il tuo progetto al cliente oppure per poter controllare l'andamento dei lavori in cantiere perché oltre ad avere la possibilità di salvare il modello tridimensionale avrà la possibilità di salvare anche le tavole che ha impaginato all'interno del book di layout in questo caso hai a disposizione quello che viene chiamato ipermodello l'ipermodello appunto è un insieme sia delle informazioni 3d sia delle informazioni che sono contenute all'interno delle tavole oltre a questo abbiamo anche delle informazioni relative agli elementi del progetto allora in questo caso abbiamo la possibilità di andare a interrogare ogni singolo elemento che compone il tuo modello vediamo come poter navigare il modello se io faccio tap su uno dei documenti immediatamente mi si apre l'elenco dei documenti contenuti all'interno del file bmix nella parte di sinistra ho l'elenco nella parte di destra ho l'anteprima della singola voce che vado a selezionare facendo tap sull'anteprima del modello tridimensionale puoi vedere che abbiamo aperto il modello e ora con i classici gesti che si usano con i tablet abbiamo la possibilità di muoverci all'interno del modello eventualmente di zoomare di fare tutte le operazioni che possano servire se vogliamo navigare il modello ad altezza uomo un po come se stessimo camminando all'interno basterà fare tap sull'umine in basso a destra e allora in questo caso abbiamo un joystick che ci permette di muoverci all'interno del modello dove abbiamo le aperture come puoi vedere possiamo andare ad attraversare i muri se abbiamo all'interno una scala abbiamo un sistema di gravità che ci permette di essere perfettamente adattati alla scala e di salire gli scalini un po come se fossimo all'interno dell'edificio come puoi vedere abbiamo anche una serie di riquadri questi riquadri sono dei tag che richiamano le tavole che abbiamo caricato all'interno dell'iper modello e facendoci un tap sopra abbiamo la possibilità di vedere l'anteprima della tavola e se ad esempio vogliamo andare ad aprire una tavola basterà fare tap sopra e fare tap su apri immediatamente il bmix si andrà a portare con anche un movimento abbastanza scenografico sulla tavola e allora all'interno della tavola adesso abbiamo la possibilità di zoomare con una velocità e una manualità molto ma molto elevati e possiamo andare a consultare il disegno gli stessi tag che abbiamo all'interno del modello 3d li abbiamo anche all'interno delle tavole dove possiamo tranquillamente andare a richiamare le tavole in questo modo come ho fatto io oppure abbiamo la possibilità nel caso in cui dovesse servire di andare a far scorrere le tavole per poterle andare a visionare torno all'interno del modello 3d facendo tap in basso a sinistra sulla casetta e sempre all'interno del modello abbiamo la possibilità se ci spostiamo magari su un elemento basterà fare tap sopra un elemento andare a fare tap sul cerchio che si attiva allora in questo caso anche qua abbiamo una serie di cose che possiamo fare tra queste molto interessante sono le informazioni perché abbiamo la possibilità da archicad di collegare ad ogni singolo elemento delle informazioni che possono essere poi eventualmente visionate attraverso la navigazione dell'iper modello in questo caso io ho caricato dell'informazione all'interno del modello per quanto riguarda le finestre come puoi vedere oltre alla codifica della finestra abbiamo il sito web del produttore una descrizione l'anno di produzione e tutta un'altra serie di informazioni logicamente queste informazioni sono completamente personalizzabili da parte dell'utente queste le possiamo inserire su ogni tipo di elemento che compone il modello bim che hai realizzato con archicad ecco questa era una veloce panoramica di quello che il bmx ti permette di fare un'ultima cosa particolarmente interessante che abbiamo all'interno del bmx è la possibilità di prendere delle misure prendere delle misure direttamente dal modello può essere molto utile perché se stiamo facendo magari una presentazione al cliente e ci chiede determinate caratteristiche o delle informazioni più precise basterà solamente fare tappa sul righello abbiamo questo puntatore dove possiamo posizionarci dove ci serve magari in questo punto e possiamo andare a misurare la larghezza della porta eventualmente possiamo andare a misurare anche l'altezza di questa porta finestra ecco questo è un sistema estremamente veloce e comodo proprio per interrogare il modello oltre che a richiedere informazioni possiamo andare a misurare i singoli elementi che compongono il progetto direttamente dal modello tridimensionale